Il Comune di Castellabate ha ospitato quest'anno nel Salone d'Onore del Castello dell'Abbate il Premio Internazionale di Poesia Itinerante dal Tirreno all'Oionio con il tema Ulisse ed il viaggio degli inganni e della speranza. Un premio promosso dalla Fondazione Roberto Farina Ollus di Roberto Capo Spulico, giunto alla quinta edizione e dedicato ad Omero, poeta sovrano. Un evento culturale d'eccezione che si sposta ogni anno da una parte all'altra. In realtà questo premio nasce sotto leggi dal Giornata Mondiale della Poesia patrocinata dal Club Unesco di Cosenza. Abbiamo portato il nostro messaggio augurale e abbiamo pensato che sia importante diffondere la poesia in qualunque modo possibile. Si parla tanto della crisi della poesia, dei poeti, invece noi continuiamo in perterriti il nostro viaggio. Questa è la quinta edizione, abbiamo avuto edizioni precedenti, questo premio è importante perché è itinerante, vuol dire che si sposta e porta con sé una carovana di poeti. Per ricordare Roberto, diciamo che facciamo cultura a 360 gradi, giriamo l'Italia con questo premio e voglio anche ricordare il premio internazionale di poesia che si svolge il primo di giugno ogni anno a Roseto Capospulico per festeggiare l'anniversario della nascita di Roberto. Ringrazio l'amministrazione del Comune di Castellabate che ci ha ospitato e ringrazio tutti i poeti che hanno partecipato a questa quinta edizione del premio. Invito tutti coloro che scrivono poesia a partecipare alla nuova edizione del 2019 che si terrà come ha detto il presidente Giovanni Moulet a Matera volendo fare affidamento sulle persone che qui vedete, noi quattro persone semplici che vivono di poesia semplicemente con amore e mi permetto di dire anche con competenza. La dottoressa Anna Lauriane è anche una testimonianza poiché la vive e il dottore che è medico, mio collega Farina, nell'esempio di gratuità e di contributo anche economico alla cultura. Quindi già questo voglio che sia pubblicamente un invito a far capire a tutti quelli che parteciperanno che chi appunto parteciperà a questo premio sa che può fare affidamento su persone che non fanno business di cultura e di poesia ma si impegnano con anima. Noi siamo in un'epoca di relativismo quindi si sono persi un po' i valori, i giovani giustamente si sentono persi. La speranza non deve morire, appunto il tema di questo viaggio è soprattutto la speranza. Il viaggio degli inganni perché? Perché ci sono tante distrazioni, ci bombardano per quanto riguarda gli archetipi del profondo, quindi con tanti messaggi subliminali, ma in realtà bisogna gioire della vita, la vita è bella, non c'è soltanto la cronaca nera. Quindi dico a giovani, fatevi avanti con speranza, lasciate stare tutte le brutture insomma che ci comunicano dalla mattina alla sera. Ci andiamo avanti, con gioia, con amore, recuperiamo i valori di una volta.